Il romanzo African Inferno parla di un'immigrazione che non ha mai raccontato nessuno, cioè l'immigrazione africana inserita, l'immigrazione africana di chi non è venuto in Italia da clandestino con il barcone o scavalcando qualche frontiera, ma che è arrivato qui con il treno, è arrivato qui con l'aereo per lavorare, per studiare, racconta dell'immigrazione africana a contatto con l'Italia, quindi a contatto con l'italiano, che poi è l'io narrante, protagonista di questo romanzo, e che è l'immigrazione che abita con noi, che lavora con noi, quella che ritroviamo a scuola con i nostri figli, o come i genitori dei bambini che vanno a scuola con i nostri figli, quella di cui ci innamoriamo, l'Africa in Italia con cui facciamo amicizia, l'Africa in Italia con cui giochiamo a calcio, con cui andiamo a berci una birra al bar, e cioè l'Africa e l'immigrazione in particolare non dell'emergenza, quella invisibile, ma che peraltro è l'immigrazione numericamente di gran lunga più importante e più abbondante, e quella con cui avremo sicuramente sempre più a che fare negli anni che verranno. African Inferno è un titolo che mi piaceva molto per tanti motivi, uno è un motivo di suono, African Inferno suona come disco inferno, è un titolo pop, se vogliamo anche un po' funky, e io lo vedo molto funky e molto pop questo romanzo, quindi mi è piaciuto intitolarlo così. D'altra parte African Inferno è anche, perché arriverà alla fine del romanzo, il titolo di un'installazione artistica di uno dei protagonisti del romanzo, e poi ancora l'Inferno è quello degli africani in Italia, l'Inferno è quello degli italiani che si trovano a vivere gomito a gomito con gli africani. L'Inferno è anche il sovrannaturale incombente che avvelena le vite degli africani e che sprigiona veleni e fumi sul furei che finiscono anche nelle vite degli italiani, quantomeno in questo romanzo, ma credo anche così come atteggiamento generale nei confronti della vita. L'urgenza è la necessità di scrivere questo libro, che ci tengo a dire parla di temi sociali complessi, ma cerca di farlo attraverso un approccio leggero, attraverso il sorriso, ovvero possibile. La necessità di scrivere questo libro stava proprio nel raccontare questa immigrazione, che è un'immigrazione tutto sommato positiva, anzi senza il tutto sommato, cioè un'immigrazione di persone che vivono bene, almeno dal punto di vista economico, fuori dall'emergenza e fuori dal disagio, perché a forza di parlare solo dell'immigrazione e dell'emergenza, quindi solo degli sbarchi dei clandestini, solo degli atti di razzismo criminali contro le persone con una pelle diversa da quella bianca, si finisce per far credere che sia solo quella l'immigrazione, si finisce per ingenerare un sentimento fuorviante nei confronti dell'immigrazione, che è o quello del disprezzo, oppure se si sta dalla loro parte, quello della pietà. Invece quello che tenevo a fare era raccontare come ci si rapporta realmente, proprio nella vita quotidiana, quando per esempio si cerca di fare amicizia, quando si cerca di amare delle persone africane e far venire fuori da lì sia i nostri pregiudizi, i pregiudizi degli italiani nei confronti degli africani, che sono una pletora, ne abbiamo tantissimi, forse non siamo un popolo razzista, ma sicuramente siamo un popolo pieno di pregiudizi, e allo stesso tempo raccontare davvero per la prima volta, con onestà intellettuale, quelli che sono i pregiudizi degli africani freschi di immigrazione nei confronti del, diciamo così, bianco. Africa in inferno esce in un momento in cui il razzismo è nelle pagine di tutti i giornali, è nei titoli di test dei telegiornali, nel momento in cui per esempio a Nettuno una banda di tre matti ha dato fuoco a un giovane ragazzo indiano, un momento in cui ci sono stupri, omicidi che chissà perché si indirizzano verso persone che hanno un colore della pelle più scuro di quello medio italiano. Quindi esce in un momento in cui c'è questa emergenza razzismo, ed è un libro che parla di razzismo naturalmente, sembrerebbe quasi un instant book, ma naturalmente non lo è, è un libro che è stato scritto nel corso di tre anni, però vorrei dire che nel corso di questi tre anni in cui è stato scritto, ma anche nel corso dei dieci precedenti, dei venti precedenti, da quando l'immigrazione in Italia ha cominciato ad essere stabile e quindi numerosa, di razzismo o comunque di temi connessi alla convivenza tra italiani e africani in particolare, c'è sempre stata una necessità di parlarne, di raccontarne, di generare storie che fossero una produzione di immaginario in questo campo. E mi pareva pazzesco, mi pareva incredibile che sino ad oggi nessuno scrittore italiano, nessuno scrittore italiano fuori dagli scrittori di nicchia che magari scrivono proprio piccole storie sull'emergenza, nessuno scrittore italiano avesse mai affrontato una grande storia dell'immigrazione, pur che sia, i africani in particolare ma non solo, dell'immigrazione in Italia. In questo romanzo ho cercato di essere, come dicevo poco fa, onesto intellettualmente, cioè come di solito faccio quando scrivo di dire tutto e quindi di non assumere la posizione di chi denuncia il razzismo degli italiani, i pregiudizi che ci sono e se ne accontenta e presenta la figura degli immigrati come spesso accade nell'ottica terzomondista come la figura di personaggi angelicati. L'equazione è molto semplice, l'immigrato soffre, chi soffre è buono, dunque l'immigrato è una persona che porterà una ventata di rinnovamento positivo nell'etica. Ebbene tutto questo non ha alcun senso naturalmente, l'immigrato africano come tutti gli altri, ma quello africano in particolare è una persona come tante e quindi può essere un'ottima persona o una pessima persona come tante, come tutti, di solito le persone sono pessime, anche gli immigrati africani nella maggioranza, ahi noi, come tutta l'umanità, sono delle persone con più difetti che pregi. Ma al di là di dire questa cosa di carattere generale, dal punto di vista dell'ambivalenza del razzismo ho cercato di mettere in luce raccontandole tante cose, provo a dirne alcune, dal punto di vista dell'italiano ho cercato di mettere in luce la scarsa considerazione di base che abbiamo verso gli africani, per esempio chissà perché, per dire una cosa banalissima, ma che offende a morte le persone a cui viene fatta, si tende spontaneamente a dare del tu a qualsiasi africano si incontri, che sia per strada, che sia in banca, che sia in università, chissà perché gli si dà del tu come se fosse un buon selvaggio. Allo stesso modo quando lo si vede guidare una Mercedes, per dire una bella macchina comunque, si pensa o che fa l'autista o che spaccia droga, non ci viene in mente che potrebbe essere la comprata perché fa il medico, l'avvocato piuttosto che l'ingegnere. Oppure ancora negli approcci sessuali, negli approcci comunque diciamo amorosi che poi hanno questa componente, c'è una volgarità e una facilità dell'italiano nel confronto di chi ha la pelle nera che non esiste nei confronti di altri europei, perché si ha la sensazione di potersi permettere qualche cosa proprio perché abbiamo questo senso di superiorità o questa mancanza di considerazione radicata. Dall'altra parte ci sono dei sentimenti degli africani verso gli italiani che non ci aspetteremmo, come dicevo poco fa a noi sembrano i buoni per eccellenza, invece anche loro hanno dei pregiudizi, un pregiudizio molto forte per esempio sull'ipocrisia degli italiani, passiamo chissà perché per degli ipocriti a tutto spiano, passiamo chissà perché per delle persone perverse. Una delle cose che tutti gli amici africani con cui ho avuto che fare mi dicevano era questa, quando si vedono due persone, un bianco e un nero, che non siano palesemente compagni di lavoro piuttosto che compagni di scuola o di università in giro, insieme per strada, che siano un uomo e una donna, un uomo e un uomo, una donna e una donna, deve esserci per forza qualcosa di sessuale sotto, come se non fosse possibile nel loro modo di vedere l'italiano un normale rapporto di amicizia, come può esserci tra due persone qualunque, indipendentemente dal colore della loro pelle. Ora non voglio insistere su questa elencazione di difetti o di pregiudizi da una parte dall'altra perché siamo in un momento storico in cui bisognerebbe andare nella direzione della conciliazione, però insomma queste cose nel libro ci sono e sono anche una parte fondante della narrazione.